Musica Quest'oggi siamo in prefettura, ci ha accolti il prefetto Mariano Savastano e con lui parleremo poi dei temi, quelli che sono tipici diciamo per quanto riguarda la competenza appunto di Palazzo dei Rettori. Grazie per averci accolti. Buon pomeriggio a lei e a tutti i vostri telespettatori. Ecco partirei dalla questione forse più attuale che è quella dell'arrivo delle persone che scappano dalla guerra in Ucraina. Naturalmente il sistema dell'accoglienza complessa è fatto di molte parti e alla prefettura spetta il compito di fare sintesi e riuscire a comunicare poi tutte le parti del sistema. Esattamente così ed è questo il motivo per il quale sin da quando è iniziata la guerra e quindi l'esodo dei profughi ucraini abbiamo, ho istituito una cabina di regia che si svolge tutti i mercoledì mattina. Cabina di regia dà il senso della necessità del coordinamento tra le tante amministrazioni coinvolte. Cabina di regia per tranquillizzare tutti quei soggetti che a vario titolo sono impegnati in un'opera veramente difficile, complessa di grande umanità. E affrontiamo le varie tematiche, quindi da quella sanitaria innanzitutto e quindi con i rappresentanti della nostra ULS che ci aggiornano sullo stato di salute. Sappiamo che è cessato lo stato di emergenza per la pandemia, ma il virus continua ad esserci. Contemporaneamente è stato dichiarato un altro stato di emergenza per la guerra, quindi innanzitutto c'è la necessità di sottoporre ad una corretta profilassia anche i cittadini ucraini e i bambini prima di accoglierli nelle case o di inviarli a scuola. E quindi si è messa in moto la macchina sanitaria, anche essa molto complessa, ma faccio veramente i complimenti alla nostra direzione generale perché in poco tempo è riuscita a rilasciare un numero di tessere provvisorie pari al numero dei cittadini ucraini ospitati. La settimana scorsa abbiamo superato quota 1000, ora abbiamo superato mi pare le 1100 persone, quindi persone che vengono accolte e vengono curate. Il secondo pilastro è l'accoglienza e qui dobbiamo veramente ringraziare la disponibilità e il buon cuore dei nostri cittadini italiani e di quelli ucraini, perché ricordiamo che la comunità ucraina era già molto presente in provincia, in Italia, prima della guerra. È quella che noi chiamiamo la rete parentale amicale, quindi delle 1100 persone ospitate in provincia di Belluno e il dato rispecchia quello regionale e quello nazionale, l'85-90% è accolta nella cosiddetta rete amicale e parrocchiale. Accanto a questa rete abbiamo creato una rete parrocchiale, quindi una serie di strutture, di abitazioni, di parrocchie che il nostro Vescovo e la Caritas ci hanno messo a disposizione e parallelamente a questo la rete comunale, quindi alcuni comuni hanno prontamente individuato alcune strutture idonee ad ospitare quei cittadini che non dovessero trovare accoglienza nella rete parentale o amicale. Ne cito una su tutte, ma sono varie, l'ex caserma dei Vigili del Fuoco riconsegnata al Comune e Comune di Belluno con il quale stiamo lavorando per andare a sottoscrivere a breve un primo accordo. Ecco, naturalmente ci sono appunto delle poste sanitarie, ci sono anche poi delle poste economiche, ci sono delle regole poi da impostare, seguire e poi c'è anche un coordinamento, insomma per cercare di frenare magari all'inizio c'era stata quella spontaneità nell'aiuto che forse per quanto bella forse era un po' disordinata, diciamo così. I provvedimenti del governo in generale, quindi con decreti legge adottati dal Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile hanno disegnato un sistema che ricalca quello dell'emergenza di protezione civile e quindi sono state chiamate in causa le regioni, infatti il nostro governatore Zaia è soggetto attuatore e sono state date delle linee guida, quindi degli indirizzi, molte famiglie che ospitavano, quindi gli ospitanti chiedevano un aiuto economico, la scelta è stata invece quella di aiutare gli ospitati, per cui coloro cittadini ucraini che si sono sistemati autonomamente hanno diritto ad un contributo di assistenza, di sostentamento, così lo definisce la norma, quei famosi 300 Euro al mese per 90 giorni a cui si può aggiungere per ogni figlio 150 Euro. E' chiaro che questa somma che la persona ucraina potrà a breve, dovrebbe liberarsi il circuito bancario e quindi potranno allo sportello delle banche andare a ritirare queste somme, serviranno per aiutare le famiglie di parenti o di amici che offrono ospitalità e quindi banalmente per pagare le bollette o per fare la spesa. L'altro caposaldo è questo, il sistema paese accoglie tutti i soggetti richiedenti protezioni internazionali, ora siamo molto concentrati sull'Ucraina, ma ricordo che esistono le rotte dal Nord Africa che nella bella stagione aumentano e quindi per questo mi riferisco a tutti i portatori di interesse, a tutti coloro che scappano dalle guerre, da situazioni drammatiche e chiedono protezione internazionale. L'Italia ha un sistema di accoglienza, si chiama proprio SAI, sistema di accoglienza e integrazione, costruito con l'adesione volontaria dei comuni, in provincia di Belluno solo il comune di Belluno ha aderito, il governo ha stanziato delle somme invitando e anch'io ho sollecitato, sensibilizzato i sindaci ad aderire a questa forma di accoglienza. Parallelamente a questo ci sono i cassa, i centri di accoglienza straordinaria aperti dai prefetti con i gestiti di norma dagli enti del terzo settore, con il parere favorevole naturalmente del comune ospitante, noi per esempio in provincia abbiamo vari cassa per un totale di circa un centinaio di posti, posti però che sono occupati per la maggioranza da persone provenienti dall'Africa, sono quasi tutti uomini giovani, è chiaro che questo tipo di accoglienza mal si concilia con quella dedicata alle donne ucraine, mamme con bambini, ecco perché siamo usciti la settimana scorsa con un avviso perché venissero presentate eventuali manifestazioni di interesse da parte dei soggetti del terzo settore per poter dare accoglienza a cittadini ucraini. Qualora né i SAI né i CAS fossero sufficienti, proprio come nel caso di Belluno ad ospitare profughi, l'ultima possibilità è quella dell'accordo che la Prefettura può sottoscrivere con un comune, cosa che ho detto stiamo per raggiungere con il comune capoluogo, ma altri comuni hanno dato questa disponibilità, per esempio Agordo nei giorni scorsi e quindi c'è un testo di accordo che prevede che il comune metta a disposizione dei beni per poter accogliere queste persone e enti del terzo settore, il volontariato sociale che offre servizi di accoglienza, servizi di supporto, cito il servizio linguistico, di mediazione culturale e linguistica e in questo caso è previsto un finanziamento da parte dello Stato che va a pagare proprio gli enti del terzo settore che offrono questi servizi di accoglienza. Ecco, nella nostra provincia purtroppo si pone periodicamente l'attivazione di un sistema di protezione civile molto organizzato, perché purtroppo non siamo fortunatissimi per quanto riguarda le calamità naturali. Anche questo è un tema su cui la prefettura ha un suo bel peso specifico. Diciamo che rientra proprio nel core business, quindi se la prima parte della nostra chiacchierata possiamo dire così riguarda il prefetto che è uomo delle emergenze, che gestisce l'emergenza, è come quella di una guerra e tutto quello che ne deriva e quindi il governo che si affida ai prefetti e alle prefetture, invece con la protezione civile rientriamo proprio in una delle due, tre grandi proprio competenze specifiche nostre. Quindi possiamo dire che il nostro territorio è bellissimo, è fragile e quindi necessita di un approccio molto serio, molto professionale, anche questo costruito in rete, c'è tutto un sistema di sale operative nei comuni, il famoso COC o presso le unioni montane, il COM, ma la sala operativa madre, quella provinciale, è il CCS, Centro Coordinamento Soccorsi, attualmente ospitato presso il nucleo elicotteristi e proprio domani facciamo un'esercitazione, simuliamo una situazione di emergenza grave che coinvolga a gran parte del territorio e simuliamo quindi l'arrivo di decine e decine, posso dire un centinaio di telefonate con richieste di aiuto e di intervento. In questa sala operativa abbiamo rinnovato il centralino, la parte tecnologica, informatica e quindi andremo a testare in tempo di pace, come mi piace dire, le operazioni che di norma si svolgono durante un'emergenza e quindi la ricezione delle domande, i tempi necessari per poter recepire una richiesta di intervento, per poterla mettere in lavorazione, affidarla, lo chiamiamo al tavolo delle funzioni che poi elaborerà. È un modo per tenerci allenati, è un modo per prepararci, insisto sempre, mi piace molto questo termine, la preparazione che ci prepara in tempo di pace all'azione, a quando ci sarà bisogno, proprio per essere pronti, efficaci e efficienti. E poi guardando avanti c'è la grande partita dei cantieri olimpici che si sommano ad alcuni cantieri che si sono accumulati per i mondiali, sono cantieri molto grossi e possono fare gola, a imprenditori poco trasparenti, mettiamola così. E quindi anche su questo occorre vigilare. Anche su questo occorre vigilare, questo è l'altro grandissimo core business della Prefettura, direi del Ministero dell'Interno che ha questa competenza. Ricordo che presso le Prefetture, ogni Prefettura d'Italia c'è un ufficio antimafia che svolge con un nucleo interforze, con la partecipazione della DIA, serrati, controlli costanti, continui, su tutte le aziende bellunesi e non che vengono a lavorare sul nostro territorio. Questo è un momento, sono anni prossimi molto importanti e molto delicati, giustamente ricordava i cantieri ex mondiali ora diventati olimpici, poi ci sono i cantieri olimpici, ma sapete che stiamo parlando di un importante cantiere nel Comelico, un cantiere sicuramente dovrà essere impiantato anche in Val dei Zoldo per la SP 251 proprio ieri riaperta. Quindi il nostro territorio riceverà molti finanziamenti e dovremo essere tutti bravi, quindi l'ANAS, Veneto Strade, la Regione, gli enti locali, a convogliare queste risorse su opere indispensabili, essenziali, che necessiteranno quindi di tempi contenuti e dei necessari controlli, controlli che saranno fatti sul modello di quelli fatti in occasione dei mondiali di sci. Noi veniamo fuori da questa bella esperienza, anche in quel caso opere importanti sono state realizzate, controlli serrati sono stati fatti proprio per coniugare correttezza, legalità, efficienza nel portare a casa i lavori più importanti di ammodernamento della provincia di Belluno. Sono sistemi che funzionano naturalmente sempre con il dialogo e il coordinamento, perché altrimenti ognuno lavora per sé e non si riesce che poi… Questa è un po' la chiave, un po' trasversale, la complessità delle questioni di cui abbiamo parlato impone che le amministrazioni non lavorino più da sole, ma lavorino in staff, ecco perché sentite spesso la parola coordinamento attribuita al prefetto, ecco una delle funzioni principali del prefetto, quello di coordinare, semplicemente significa mettere intorno allo stesso tavolo tutti gli enti competenti per evitare passaggi inutili, che in una riunione, che in due riunioni, sul modello delle conferenze di servizio, siano discussi tutti gli aspetti urbanistici, tecnici, amministrativi, contabili di sicurezza della partita che si sta giocando e che tutti gli adempimenti siano svolti sotto un'unica regia, in modo tale da ridurre i tempi, essere più efficienti, ridurre i costi, garantire la legalità. Grazie mille per averci accolti. Sono stato molto contento. E quindi ci vediamo alla prossima tappa. Grazie mille per averci accolti.